Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qualazampa. Questa sera vorrei parlarvi di oche. Per chi ha a disposizione un recinto con almeno 150 metri quadrati di pascolo o di prato e un piccolo ricovero anche rustico, semplice, in legno, non necessariamente molto isolato, l'allevamento dell'oca può essere un'opportunità interessante. A parte i primi due mesi di vita, poi l'oca è un animale piuttosto rustico, quindi si adatta molto bene anche ai vari climi, sia l'umidità che il freddo e può essere allevata tranquillamente in un recinto, non necessariamente con una rete metallica molto alta. Sono sufficienti 60-70 centimetri di rete tutto intorno al prato e l'oca non fuggirà. È necessario quindi un ricovero di un paio di metri per un paio di metri di superficie e in questo modo potete acquistare delle oche che vengono prese in un rapporto di tre femmine e un maschio e cominciare l'allevamento. L'oca viene allevata appunto per la produzione di carne oppure semplicemente per la produzione delle uova, che sono comunque ottime per l'alimentazione umana. L'oca può covare le proprie uova e dopo un periodo di 29-30 giorni nasceranno dei pulcini che saranno con la madre fino alle 4-6 settimane. Dopodiché, quindi, prima dei due mesi di vita potranno essere allevati da soli perché diventeranno indipendenti e molto rustici. Ricordate che l'oca comunque è un animale molto longevo, quindi ha una vita anche di più di 10 anni e sicuramente è un animale che diventa territoriale, si affeziona al posto e soprattutto il maschio difende proprio il posto in cui vive. Bene, per questa sera è tutto, vi do appuntamento la settimana prossima. Arrivederci.